Il lifting del sopracciglio è un intervento di chirurgia estetica che consente di risollevare la porzione più laterale del sopracciglio, la cosiddetta coda. L'incisione viene condotta al di là dell'attaccatura del cuoio capelluto, quindi direi in regione temporale, subito dopo la zona della tempia. Il sopracciglio è completamente scollato e ancorato in una posizione più alta. Il risultato è fin da subito molto bello e l'aspetto dello sguardo è quello di uno sguardo più disteso e aperto. Grazie.